Ciao a tutti e benvenuti a Stories in Slow Italian. Ciao a tutti, mi chiamo Elena e sono una insegnante di italiano per stranieri. In questo podcast vi parlerò di tanti e diversi argomenti in un italiano chiaro e lento, così che possiate abituarvi ad ascoltare la lingua e allo stesso tempo imparare nuove parole e, spero, nuove informazioni interessanti. Parlerò del più e del meno, di cose che mi succedono nella vita di tutti i giorni, di notizie che sento o che leggo e di curiosità sulla cultura e lingua italiana. Quando le frasi o le parole diventeranno troppo difficili, vi aiuterò con la traduzione inglese e vi spiegherò la costruzione della frase o il significato della parola. Piano piano diventerà sempre più facile capire quello che dico, quindi aumenterò il livello degli argomenti o, a volte, anche la velocità in cui parlo. Ma non vi spaventate, sarà un percorso graduale e senza fretta. Ricordate, chi va piano va sano e va lontano. Grazie. Grazie.